Qui si tratta di cantare professionalmente, io sono una cantante professionista, si tratta non di imitare un personaggio ma di diventarlo, di ballare, quindi davanti a un pubblico così vasto e quindi sì, diciamo la verità, un po' di paura c'è, un po' di timore c'è. Ho avuto un momento di scoramento, di dico la verità, in cui ho detto no, non ce la faccio. Poi dopo è riemersa la luxuria combattiva e ho detto no, devo reagire, quindi non garantisco il risultato ma posso garantire che ce la sto mettendo tutta. È una trasmissione fatta di grandi professionisti, ti giuro, io ho una lezione di due ore di canto con Dada che è la mia coach, una lezione di due ore di recitazione con Manuela, ti giuro mi hanno fatto capire tante cose, quindi è un modo per crescere questo. Ci saranno dei personaggi in cui questa sfida sarà più accentuata? Sì, da subito, da subito. Proprio terapia shock. Cioè effettivamente non mi sarei mai aspettata di dover imitare la persona che mi hanno chiesto di fare. Nella vita a te a che piacerebbe essere tale e quale? Guarda, ti sembra una risposta più banale, ma a me stessa, perché quello che sono oggi ho dovuto combattere per diventarlo. Allora mi rivolgo a tutti coloro che seguono spettacolo che spettacolo di seguire anche venerdì 14 settembre 21 e 25, tale e quale show Rai 1.